Secondo me comunque l'hanno inventato i cinesi, il laboratorio. Questi dicono di stare dentro casa, io sto dentro casa con due zombie, eccoli qua, uno e due, due zombie. Ditemelo se siamo già morti, eh. Porca di quella troia, fra, non si va a scuola, c'è la fine del mondo, zio. Arriva il coronavirus, fra. Il corona che? Al legame covalente. Raga, mi sono rotto il cazzo, rimaneteci voi con formagella. Silvetti fuori. Fuori da che, prof? Da camera mia. Sotto casa c'era tipo un vigile, mi ha chiesto la tua certificazione. Non sai quanti sono? 560 euro! Piero! Ciao. È tutto il giorno che ti cerco, t'ho chiamato, t'ho mille volte, sei sparito così! Allora, poi non mi venite a parlare di sensibilità, perché questo ragazzo ha bullizzato un disabile. Il tuo figlio è un bullo, ne parla tutta Italia, su tutti i telegiornali, tutti i social! Ehi! Ehi, qualcuno! Ho il covid. Ho detto, l'ho preso. Sai che differenza c'è tra te il coronavirus? Tu colpisci anche chi ha la mascherina. Tu ti giochi danni, lo sai questo, vero? Questa è da sospensione a oltranza. Scusate, se continuate a insegnare l'esclusione, non avrà mai modo di imparare, lo capite? Ora mi starà sul cazzo la felicità, forse è questo. Io con te il tempo lo impiego. Ma ti sei mai innamorato? Silvetti innamorato! Silvetti innamorato! Io sto bene, ma che forse mi piace uno. Guarda me, è tipo l'opposto. Oddio, la vita è sempre così ferocemente meravigliosa. Sì, il covid è tipo un buio, ma sta un po' d'amore e se ne va. Guarda che primavera meravigliosa. Quando respiri, facci caso.